Cosa fa il Signore con questa gente? Alla donna innocente la salva, gli fa giustizia. Alla donna peccatrice la perdona. Ai giudici corrotti li condanna. All'ipocriti li aiuta a convertirsi. Ognuno di noi ha le proprie storie. Ognuno di noi ha i propri peccati. Se non le ricorda, ma pensi un po', li troverai. Ognuno di noi, guardando come Gesù attua in questi casi, si fidi della misericordia di Dio. E preghi, con fiducia nella misericordia di Dio, preghi il perdono.